Superbonus Poste dice stop alla cessione dei crediti per sempre. Poste Italiane ha deciso di bloccare per sempre la cessione dei crediti derivanti dal bonus casa, a partire dal 30 maggio. La decisione è stata presa immediatamente dopo l'approvazione del decreto Superbonus, che introduce diversi vincoli e restrizioni, rendendo più complessa la cessione dei crediti per i bonus legati alle ristrutturazioni. Il blocco non è retroattivo, ciò significa che le procedure di cessione del credito già avviate continueranno. Tuttavia, le domande pervenute prima del 30 maggio potrebbero sia essere accettate che rifiutate. Il decreto ha introdotto varie novità che rendono più difficile l'acquisizione di ulteriori crediti, influenzando sia le banche che il comparto edilizio e immobiliare. Il bonus ristrutturazione, inoltre, a partire dal 2025, scenderà dal 50% al 36%. Un'ottima rispondenza di ottenere il partito è andata. Grazie a tutti.